Ehi, ciao, stasera ti guiderò verso un profondissimo rilassamento e spero che questo rilassamento ti conduca in un sonno profondissimo, trovati un posto tranquillo dove nessuno verrà a disturbarti per alcuni minuti, straiati a terra o su un divano con le gambe e le braccia leggermente discoste dal corpo, i palmi verso l'alto e i piedi rilassati di lato, chiudi gli occhi e prendi un bel respiro profondo ed ispirando lascia andare le preoccupazioni, gli impegni della giornata, prendi un bel respiro profondo e lascia andare ogni tensione accumulata nel corpo, lascia vagare la mente attorno all'ambiente ascoltando i suoni che ti arrivano dall'esterno, non analizzare o intellettualizzare i suoni, si solo consapevole di questi come qualcosa di esterno, sei solo un testimone e stai solo osservando e ascoltando i suoni che riesci a percepire nel il tuo ambiente, porta lentamente l'attenzione al corpo, fai un bel respiro profondo ancora ed espirando lasciati andare in uno stato di pace e relax, prendi consapevolezza del tuo corpo per intero ed e della superficie sotto di te, porta l'attenzione ai punti d'incontro tra il tuo corpo e la superficie sotto di te, totale consapevolezza della sottile linea d'incontro tra il corpo e la superficie sotto di te, iniziamo ora a muovere la consapevolezza attraverso le diverse parti del corpo, cominciando dalla mano destra, la mano destra, il pollice della mano destra, secondo dito, terzo dito, quarto dito, quinto dito, quinto dito, palmo, dorso della mano, polso, avambraccio, gomito, parte superiore del braccio, spalla, ascella, fianco destro, anca, coscia destra, ginocchio, muscolo del polpaccio, caviglia, tallone, pianta del piede, collo del piede, a luce destro, secondo dito, secondo dito, terzo dito, quarto dito, e quinto dito, porta l'attenzione a tutto il lato destro del corpo per intero, muoviamo ora la consapevolezza verso la mano sinistra, mano sinistra, pollice della mano sinistra, secondo dito, secondo dito, terzo dito, quarto dito, quinto dito, palmo, dorso della mano, polso, avambraccio, gomito, parte superiore del braccio, spalla, ascella, fianco sinistro, anca, coscia sinistra, ginocchio, muscolo del polpaccio, caviglia, tallone, pianta del piede, collo del piede, collo del piede, alluce sinistra, secondo dito, terzo dito, quarto dito, quarto dito, e quinto dito, il lato sinistro del corpo per intero, sposta ora la tua attenzione alla spalla destra, spalla sinistra, scapola destra, scapola destra, scapola sinistra, natica destra, natica sinistra, colonna vertebrale, tutto il retro del corpo simultaneamente, porto ora l'attenzione alla sommità del capo, la sommità del capo, fronte, sopracciglio destro, sopracciglio sinistro, spazio tra le sopracciglia, palpebra destra, palpebra sinistra, palpebra sinistra, occhio destro, occhio sinistro, orecchio destro, orecchio sinistro, orecchio sinistro, guancia destra, guancia sinistra, naso, e punta del naso, labbro superiore, labbro inferiore, mento, e mandibola, cola, clavicola destra, clavicola sinistra, destra, destra del torace, sinistra del torace, centro del torace, ombelico, e addome, porta l'attenzione a tutta la gamba destra, tutta la gamba sinistra, entrambe le gambe, tutto il braccio destro, tutto il braccio destro, tutto il braccio sinistro, entrambe le braccia, tutta la gamba, davanti, tutta la gamba, contrapposte, ed sadly il braccio destro, tutto il braccio destro, tutta la gamba, tutta la gamba, tutta la gamba, tutta la testa insieme, gambe, braccia, retro, davanti, testa, insieme, tutto il corpo simultaneamente tutto il corpo, simultaneamente, tutto il corpo, tutto il corpo porta ora la tua attenzione al respiro naturale il respiro calmo diventa consapevole del respiro che attraversa le narici il respiro naturale fluisce attraverso entrambe le narici e si incontra in cima al naso formando un triangolo il respiro spontaneo che entra attraverso le narici si muove verso l'alto e si unisce formando un triangolo con l'apice nel centro delle sopracciglia mantieni la tua consapevolezza sul respiro che entra e che esce dalle narici e inizia a contare alla rovescia da undici a uno in questo modo sto inspirando undici sto espirando undici sto inspirando dieci sto espirando dieci sto inspirando nove sto espirando nove e così via continua mentalmente a seguire il respiro che entra e che esce dalle narici continuando a contare alla rovescia fino a uno totale consapevolezza del respiro e del conto la respirazione è lenta e rilassata continuo a contare grazie a tutti lascia ora andare il conto e riporta la tua attenzione al corpo riprendi consapevolezza del tuo corpo per intero e dello spazio occupato dal corpo piano piano riprendi consapevolezza dell'ambiente intorno a te senza aprire gli occhi visualizza la stanza in cui ti trovi il soffitto le mura ed il pavimento riprendi consapevolezza dei movimenti se vuoi puoi riprendere a muovere le dita delle mani e dei piedi oppure puoi semplicemente restare con gli occhi chiusi e sprofondare in un lungo riposo buonanotte 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 profondissimo rilassamento e spero che questo rilassamento ti conduca in un sonno profondissimo, trovati un posto tranquillo dove nessuno verrà a disturbarti per alcuni minuti, straiati a terra o su un divano con le gambe e le braccia leggermente discoste dal corpo, i palmi verso l'alto e i piedi rilassati di lato, chiudi gli occhi e prendi un bel respiro profondo ed ispirando lascia andare le preoccupazioni, gli impegni della giornata, prendi un bel respiro profondo e lascia andare ogni tensione accumulata nel corpo, lascia vagare la mente attorno all'ambiente ascoltando i suoni che ti arrivano dall'esterno, non analizzare o intellettualizzare i suoni, si solo consapevole di questi come qualcosa di esterno, sei solo un testimone e stai solo osservando e ascoltando i suoni che riesci a percepire nel tuo ambiente, porta lentamente l'attenzione al corpo, fai un bel respiro profondo ancora, ed espirando lasciati andare in uno stato di pace e relax, prendi consapevolezza del il tuo corpo per intero e della superficie sotto di te, porta l'attenzione ai punti d'incontro tra il tuo corpo e la superficie sotto di te. totale consapevolezza della sottile linea d'incontro tra il corpo e la superficie sotto di te. iniziamo ora a muovere la consapevolezza attraverso le diverse parti del corpo. cominciando dalla mano destra, la mano destra, il pollice della mano destra, secondo dito, terzo dito, quarto dito, quinto dito, quinto dito, palmo, dorso della mano, polso, avambraccio, comito, parte superiore del braccio, spalla, ascella, ascella, fianco destro, anca, coscia destra, ginocchio, muscolo del polo, colpaccio, caviglia, tallone, pianta del piede, collo del piede, alluce destro, secondo dito, terzo dito, quarto dito, quarto dito, e quinto dito. porta l'attenzione a tutto il lato destro del corpo per intero. muoviamo ora la consapevolezza verso la mano sinistra. mano sinistra, pollice della mano sinistra, secondo dito, terzo dito, quarto dito, quinto dito, palmo, torso della mano, polso, avambraccio, comito, parte superiore del braccio, palmo, braccio, spalla, ascella, fianco sinistro, anca, coscia sinistra, ginocchio, muscolo del polpaccio, caviglia, tallone, pianta del piede, collo del piede, alluce sinistra, destro, secondo dito, terzo dito, quarto dito, quarto dito, e quinto dito, il lato sinistro del corpo per intero, sposta ora la tua attenzione alla spalla destra, spalla sinistra, scapola destra, scapola destra, scapola sinistra, natica destra, natica sinistra, colonna vertebrale, tutto il retro del corpo simultaneamente, porta ora l'attenzione alla sommità del capo, la sommità del capo, fronte, sopracciglio destro, sopracciglio destro, sopracciglio sinistro, spazio tra le sopracciglia, palpebra destra, palpebra sinistra, palpebra sinistra, occhio destro, occhio sinistro, orecchio destro, orecchio sinistro, orecchio sinistro, guancia destra, guancia sinistra, naso, e punta del naso, labbro superiore, labbro inferiore, labbro inferiore, mento, e mandibola, cola, clavicola destra, clavicola sinistra, destra del torace, sinistra del torace, centro del torace, ombelico, e addome, porta l'attenzione a tutta la gamba destra, tutta la gamba sinistra, entrambe le gambe, tutto il braccio destro, tutto il braccio sinistro, entrambe le braccia, tutto il retro, tutto il davanti, tutta la testa insieme, rambe, gambe, braccia, braccia, retro, davanti, testa, insieme, tutto il corpo simultaneamente, tutto il corpo, simultaneamente, tutto il corpo, tutto il corpo. Porta ora la tua attenzione al respiro naturale, il respiro calmo diventa consapevole del respiro che attraversa le narici. Il respiro naturale fluisce attraverso entrambe le narici. E si incontra in cima al naso, formando un triangolo. Il respiro spontaneo che entra attraverso le narici. Si muove verso l'alto e si unisce formando un triangolo con l'apice nel centro delle sopracciglia. Mantieni la tua consapevolezza sul respiro che entra e che esce dalle narici. Inizia a contare alla rovescia da undici a uno, in questo modo. Sto ispirando undici. 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 E così via, continua mentalmente a seguire il respiro che entra e che esce dalle narici, continuando a contare alla rovescia fino a uno. Totale consapevolezza del respiro e del conto. La respirazione è lenta e rilassata. Continua a contare. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. occupato dal corpo piano piano riprendi consapevolezza dell'ambiente intorno a te senza aprire gli occhi visualizza la stanza in cui ti trovi il soffitto le mura ed il pavimento riprendi consapevolezza dei movimenti se vuoi puoi riprendere a muovere le dita delle mani e dei piedi oppure puoi semplicemente restare con gli occhi chiusi e sprofondare in un lungo riposo buonanotte 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 buonanotte